ciao bentornati carissimi amici super fooddys serie 3 allora noi questa volta speriamo di riuscire a concludere come abbiamo aspettato qualche giorno infatti scusate ci siamo mancati subito così apri allora ci siamo fatti dare siamo arrivati a 40 bustine da aprire quindi oggi ne abbiamo 40 grazie sì grazie gli amici grazie di grazie a tutti quelli che ci hanno dato e ci danno una mano costantemente per finire queste collezioni e poi aiutare ovviamente tutti gli altri a finire le loro vi ricordo che i super fooddys domino in questo caso si trovano all'est lunga ve ne danno una bustina che contiene due tessere domino ogni 25 euro di speso 50 punti fragola il segreto è cercare i prodotti due punti fragola esempio c'è un cibo per gatti veniva questo esempio in pratica una confezione che noi prendiamo per il nostro gatto costa 70 centesimi quindi se ne prendete una vi danno 20 punti fragola se ne prendete due ve ne danno 60 di punti fragola che essendo anche avendo anche un valore economico è come se aveste uno sconto su quella bustina e in più vuol dire che ogni praticamente ogni due scatolette di cibo vi danno una bustina quindi questo è uno dei prodotti ma se fosse qualche altro prodotto che voi utilizzate controllate se ci sono o meno i punti fragola applicati in questo momento anche perché variano in base anche alla settimana di collezione spostiamo allora intanto vi faccio vedere la scatola che questa 3 99 è questa qua e che serve per contenere tutta la collezione dei super fooddys domino eccoli qua a noi ne manca uno abbiamo aspettato per accogliere tutti e cercare di arrivare a trovare questo super m super m con 3 99 che è il protagonista fondamentalmente lo vediamo qua in questa specie di beta poster gigantesco che c'è all'interno della scatola nei tinta i canti leader esatto e qua abbiamo la dove mettere i che non avevamo adesso abbiamo sarebbe assurdo e folle non riuscire ad arrivare alla fine trovando il nostro super m e se no vorrà dire che faremo un'altra puntata ora vi faccio vedere io ho trovato il guy mi schiama perché il problema vedete un'altra cosa suggerimento sulle tessere ci voleva poco fare come qua e cioè inserire anche il nome perché non è che tutti se ne ricordano tutti a memoria invece sulla tesserina il nome non c'è quando togliete la tesserina di cartone dal contenitore non avete più riferimenti ai nomi mi avevano detto di suggerire qualche altra modifica ma non me la ricordo non la ricordo proprio allora che abbiamo corvix ecco per dire delusione il fatto che mufix non abbia avuto una cosa dedicata solo a sé che è un personaggio bellissimo mufix bellissimo attesa per tutta sta roba cavolo io ho trovato una delle tue preferite che è il di fra le tessere sono carine potete usare o come domino io per la seconda volta in via tra quanto questi due fantastico il domino praticamente bisogna vediamo se trovo un numero che c'è esatto voi avete tipo dieci tessere a testa e dovete eliminarle mettendole giù e attaccandola a quello degli altri se non non avete un numero da attaccare ne pescate una dal mazzo è un po come uno fondamentalmente un molto più antico come tipo di sì no ma rompiamo tutto è facciamo vedere che scassiamo fatto cadere l'ho già detto ma preferivo i personaggi allora andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato adesso una prugna plum plum e radix radix che è il cavo dei cattivi ma tu te li ricordi tutte le memorie allora per adesso stanno vincendo il buon corvix e qui abbiamo l'avocado un altro avocado e due avocado in una busta sola va bene ricordatevi che le bustine vanno buttate nella carta per il riciclo e che i buoni scuola vanno dati a scuola se la vostra scuola non li raccoglie dati da qualcun altro ma possibile che non lo troviamo dai quante ne mancano fermati un bel po mica troppe una due tre quattro cinque 6 7 8 9 10 11 12 erano già aperte 28 ma sei una macchinetta a me piace questo a me no no è carino la prima serie se avete visto il video confronto ah è vero video confronto vero quelli della prima serie con quella della seconda cioè le di fra è molto più bella nella seconda e sinceramente anche se prima era la mia preferita è molto più bella dopo ascoltate Sara ascoltate niente non ci posso credere non ci posso credere qui c'è una cimicix una brutta cimicix eh 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 la stampa del tre eh 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 la stampa del tre un big nanas un altro eh quando ti mancano e poi arriveranno arrivano tutti oh niente mi sa che ci vediamo a un prossimo video con quante cento test con le bustine da aprire comunque sta vincendo eh come si chiama l'edp lì come si chiama l'edp no lui l'edp l'edp mi hanno trovato il shure e poi tu cosa hai trovato questo qua e questo qua eh mancano tre pacchetti abbiamo finito questo qui è votato qualcosa un'altra cimici io trovo solo cimici che le amo tanto io trovo solo cimici tu cosa hai trovato fa vedere ho trovato un misto grano che mi ero dimenticata di far vedere prima poi poi aia che non non esce non volevo uscire i bananix si li stai aprendo tutti tu poi e i kiki rice i kiki rice scoperta di quest'anno bellissimi li avrei voluti vedere in in personaggini questo qua ah ma tu c'hai qualcosa in mano e l'abbiamo trovato super m l'hai trovato super m stacca l'ultimo cartoncino ehi eccolo qui allora andiamo ad attaccare super m ha vinto alla fine avocado qui come si chiama avocript avocript togliamo i doppi e ci guardiamo la collezione tutta fatta bene anche perché finalmente sulla come dire sul titolo posso mettere completa e lo metterò subito non aspetto domani stasera lo mettiamo già in modo che ve lo dico già adesso è sabato è sabato sera sono le 17 e 25 qualcosa del genere quindi ma che 20 è il 6 ah il 6 o 7 di novembre quindi questa sera appena possibile quindi immagino intorno alle 20 21 giù di lì tempo di caricarlo caricheremo questo video con la collezione completa dei superfood quindi vabbè tante non so io questa collezione gli do un 6 ma giusto così le prime erano spettacolari questa qui capisco che c'è la crisi di materiali però eccola qui togli questa finalmente la collezione grazie 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 grazie